Noi tutti possediamo strumenti di produzione personale, produzione documentale, possiamo scrivere con la macchina per scrivere, possiamo fare fotografie, possiamo fare delle riprese audio-video con le cineprese, su pellicola, sulle onde radio, sulla carta. Poi mass media, cioè la distribuzione del Novecento dei contenuti, ha avuto un'esplosione planetaria, sono nate la televisione, la radio, è nata la possibilità di trasmettere le immagini in movimento tramite il cinema, quindi sempre tramite un supporto di tipo fisico. Il problema quindi è la produzione di contenuti, documentale, e la loro distribuzione nella loro pubblicazione. Qui a Non è mai troppo digital, su Telefriuli, per il Comune di Udine, proviamo a raccontare oggi quello che significa avere finalmente per le mani uno strumento, cioè il computer, che assomma in sé tutte queste potenzialità. Con il computer posso scrivere, posso fare di conto, posso fare delle foto ritocco, lavorare sulle immagini, fare del montaggio video e allo stesso momento, oltre ad essere lui uno strumento di espressività personale, di produzione documentale, è anche per così dire la porta per accedere a Internet e Internet oggi è il luogo della pubblicazione, noi tutti abitiamo in rete, i documenti contenuti, le informazioni che cerchiamo sono disponibili in Internet e ognuno di noi attraverso un fenomeno che si chiama disintermediazione non ha più bisogno delle filiere industriali del Novecento dei mass media per pubblicare la propria opinione, può aprire un blog e pubblicare direttamente delle informazioni in formato di testo, con delle immagini, come se fosse una rivista personale, un diario pubblico che abbiamo online, posso registrare dell'audio e inventarmi una radio personale, registro dell'audio e lo pubblico sulle pagine web, potrei fare un telegiornale per dire se sapessi organizzarmi il lavoro tramite video, audio, reportage del testo e pubblicare in rete dove in questo momento abitano tutti i contenuti che posso liberamente produrre a casa oppure nella mia attività di cittadino quotidianamente coinvolto nell'attività di informazione, che si tratti di torte salate, di attrezzi per il giardinaggio, di argomenti di politica o di poesia, tutto posso trovarlo in rete e tutto quello che posso scrivere io lo posso pubblicare senza aver necessità di utilizzare gli impianti industriali e i servizi di mass media come li conosciamo. Tutto quindi è dentro il PC, potrei utilizzare ad esempio dei programmi per videoscrittura, per scrivere sul PC, trovo sempre questi programmi all'interno di un PC anche appena acquistato in quanto fanno parte del sistema operativo, degli applicativi del sistema operativo, posso liberamente scrivere online, il programma è molto semplice e intuitivo, le icone sopra permettono funzioni più avanzate, posso formatare il testo, modificarlo e ingrandirlo, posso pubblicarlo come formato di stampa, posso vedere nell'antiprima di stampa, posso confezionare delle locandine, dei manifesti, dei libri di ricette come dicevamo prima e questo qua poi è un documento che io posso salvare in locale, ovvero sulla memoria fisica del mio computer per poterlo poi in seguito e recuperare. Posso anche salvare il documento direttamente online, esistono dei luoghi online che sono degli spazi di archiviazione, creo un profilo, accedo e mi viene dato dello spazio su qualche server remoto dove poter archiviare i miei file ed è una manovra di sicurezza, è una procedura di sicurezza che posso fare perché il mio computer può sempre rompersi, mentre archiviando i documenti online su Google Documenti, su Dropbox, su molti luoghi che potete cercare tramite Google per archiviare i vostri file ho maggiori garanzie del fatto che rimarranno sempre disponibili e recuperabili caso mai ne avessi bisogno. Quello che si può fare direttamente anche dentro Google Documenti è subito scrivere il documento, quindi online in oggi, in questo senso il web viene chiamato come una piattaforma per gli applicativi, ospita e permette non solo di ospitare i documenti come spazio di archiviazione ma sempre in internet io posso trovare gli strumenti stessi con cui produrre i miei documenti che si tratti di scrittura come in questo caso e vengono salvati direttamente sull'account Google Documenti, posso utilizzare dei programmi di fotoritocco, posso fare dei piccoli montaggi video, posso registrare del video direttamente su YouTube o su altri canali di multimedialità avanzata, immagini in movimento. Quello che mi va quindi compreso è il fatto che il computer è strumento di produzione nonché interfaccia verso la rete internet ma è anche proprio lo strumento che permette la distribuzione sulla rete internet dei miei contenuti. Sicuramente l'applicativo che tuttora è quello maggiormente utilizzato al mondo, quello più efficiente, più efficace è sicuramente la posta elettronica ad esempio. Sempre con Gmail potrei creare un account, ognuno di noi può liberamente utilizzare piattaforme per account di posta elettronica, creando un profilo, avere una posta elettronica ormai con nome e cognome nel nome è auspicabile, indicato, è tranquillamente praticabile. Il creo, seguo una procedura, do il mio nome, il cognome, una password di cui devo avere molta cura perché riguarda la mia identità digitale in questo momento e subito posso utilizzare la posta elettronica conoscendo gli indirizzi di posta elettronica dei miei amici e dei miei colleghi di lavoro. Un indirizzo di posta elettronica riconoscibile per il fatto di avere entro di sé la chiocciola che rappresenta quindi la destinazione a cui quella mail deve essere spedita nel caso io la compili e lei inoltri. Non solo tramite la posta elettronica, con il diffondersi di connettività veloce, quello che abbiamo assistito ultimamente è il diffondersi delle videoconferenze. Fino a ieri si poteva semplicemente scriversi ma non si era contemporaneamente online. Poi sono nate le chat in cui le persone potevano scriversi ed erano fisicamente ciascuna a casa sua ma virtualmente nella stessa stanza potevano chiacchierare fra di loro. Con le videoconferenze, con la capacità della connettività di banda larga, è possibile fare una televisione in pratica tra due persone, tra due angoli diversi del pianeta e in audio video guardarsi attraverso le webcam, comunicare via audio e decisamente se si tratta di trasferire informazioni e non muovere le persone è decisamente un sistema molto efficiente. Tutte queste tematiche le trattiamo al convegno Udine Smart, Udine il 6-7 dicembre al Visionario, a Friuli Future Forum e in altri luoghi lungo la città, dove verranno prese in considerazione proprio le tematiche riguardanti la città connessa nei suoi aspetti di connettività, banda larga e wifi, tanto quanto le dinamiche interpersonali e di partecipazione civica che possono emergere dalla frequentazione degli spazi web pubblici che le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dei cittadini.